Nessun favoritismo nel rilascio dell'autorizzazione sanitaria al centro di alta riabilitazione di Salcito. Lo scrive la Direzione Generale della Salute della Regione Molise. Si tratta di un atto dovuto. Sulle polemiche in estate in merito al centro di riabilitazione Paola Pavone di Salcito interviene la Direzione Generale della Salute della Regione Molise. Nessun favoritismo per il centro di alta riabilitazione Paola Pavone, ma mero assolvimento degli obblighi istituzionali nel rispetto di un regolare iter burocratico. Così la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise in risposta a quelle che ritiene infondate accuse rivoltele in merito all'autorizzazione dell'attività di riabilitazione della suddetta struttura. La discussa determinazione del Direttore Generale, prosegue la nota, rappresenta un provvedimento con cui a fronte della richiesta legittimamente avanzata da una struttura privata si autorizza come in altrettanti casi analoghi l'esercizio di attività sanitaria che ricorda alla Direzione Generale solo il primo passo che precede l'accreditamento e poi gli accordi contrattuali. L'autorizzazione è prevista, specifica, quale alto volto a cozzentire l'esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti pubblici e private subordinatamente al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per legge. Fin qui la nota della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise. Noi aggiungiamo però dell'altro, è mai possibile andare sempre a questi inutili isterismi politici, a diatribe tra pubblico e privato che non servono a nessuno, men che meno al cittadino molisano che ha la necessità di dare una propria cura alla patologia. In questo caso per l'alta riabilitazione, cioè di una eccellenza e di una qualità in sanità, ha salcito poi in una delle zone, quelle del Trigno, che tra l'altro presenta anche una forma di depressione dal punto di vista economico, 60 posti letto, movimento quindi di persone ed altrettanti posti di lavoro. Ma indipendentemente da questo per il cittadino molisano si tratta di potersi curare finalmente nella propria terra, senza dover essere costretto, e sottolineiamo costretto, a dover uscire fuori Regione per qualsiasi terapia di riabilitazione. Questo riteniamo che sia un atto negativo per le casse della Regione e altrettanto negativo per le tasche del cittadino che paga le tasse in Molise e quindi è costretto poi a doversi invece portarsi fuori Regione e pagare spese di albergo, di benzina e di quant'altro. Invece può curarsi con la terapia di riabilitazione di eccellenza e di qualità nella propria casa, in questo caso a salcito. E allora perché andare a innalzare questi inutili allarmismi, questi diatribe che non servono, lo ripetiamo, a nessuno? Lo ripeto, fino alla nausea, al cittadino molisano interessa potersi curare nel proprio territorio con prestazioni di qualità e di eccellenza. Tutto il resto fa parte di una politica che credo non abbia neanche più il senso del termine politica, che dovrebbe essere al servizio del cittadino e non andare a dare fastidio soprattutto ai cittadini per creare poi di attiribe e degli isterismi politici che non servono e soprattutto, passateci il termine, non curano le patologie, così come invece le strutture che possono aversi quelle sanitarie sul territorio devono dare risposte di qualità e di confermata efficienza ed efficace perché la salute va difesa ed è un diritto del cittadino molisano e non, ma in questo caso molisano che non deve essere costretto a doversi portare fuori regione, siamo nel 2017, anche per una semplice lampadinella per la cura riabilitativa o per una terapia riabilitativa. Cioè in questo caso salcito come ci sono anche altre strutture, beh magari ce ne fossero anche altre perché il cittadino molisano possa curarsi tranquillamente in Molise.